Quando una persona ha una pazienza, riesce a sopportare ingiustizie e angherie, quasi fino al limite della stupidità, si suole dire che è dotato della pazienza di Giobbe. Ebbene, Giobbe è un personaggio biblico, uno dei profeti, che ha paradossalmente capovolto una certa concezione della grazia di Dio che vigiva per gli ebrei. In effetti, come forse già saprete, la grazia di Dio, secondo gli ebrei, stava sulle persone fortunate e ricche, invece le persone malate, povere, deformi, erano praticamente dei segnati di Dio, erano fuori dalla grazia di Dio. Giobbe, invece, è il perfetto esempio di come questo canone sia completamente rovesciato. Infatti Giobbe era una persona ricca, ricchissima, aveva una bellissima famiglia, una bella vita, ma pregava a Dio regolarmente e lui credeva veramente in Dio, era un religioso davvero come si deve. Ma al diavolo questo comportamento non convinceva. Satana, infatti, pensava che questa religiosità, questa fede, derivasse solo e semplicemente dalla condizione agiata di Giobbe, quindi cominciò, con il passare del tempo, a strappargli via tutto. La famiglia lo allontanò, perse le ricchezze, perse la salute addirittura. Gli rimassero solo tre amici che cercavano in qualsiasi maniera di consolarlo eppure gli dicevano come fai ancora a credere in Dio, non dovresti maledirlo dopo tutto quello che ti è successo. Ma Giobbe rimase religiosissimo e fedelissimo a Dio, dicendo che tutto questo era solo una prova che Dio gli aveva mandato. E in effetti la fede fu incrollabile, tanto che a crollare fu Satana. Il diavolo, infatti, capì che la fede di Giobbe era vera e quindi smise di tormentarlo. E Dio, per ricompensare la fede di Giobbe, gli restituì tutto raddoppiandole, non ancora più ricco e più felice, in pratica. Mia nonno, in effetti, diceva che Dio mette alla prova chi ama. Ma, momento, se è Dio a metterla alla prova chi ama, vuol dire che il diavolo era a servizio di Dio mettendo alla prova Giobbe? Una coincidenza? No, io non credo.